I piloti percepiscono la necessità di proteggere dai colpi le proprie ginocchia tramite ginocchiere di plastica. Tuttavia, solo pochi prendono in considerazione l'intensità del motociclismo fuoristrada, che combina alte velocità, forti impatti e terreno difficile, mettendo i propri legamenti ad alto rischio. Le ginocchiere tradizionali in plastica non offrono alcuna protezione dei legamenti. Le nuove ginocchiere POD K4, brevettate come dispositivi medici certificati, offrono una valida alternativa alle ginocchiere tradizionali e sono clinicamente provati nel ridurre la probabilità e gravità di infortuni al ginocchio. Ispirata dal corpo umano, POD ha apportato il disegno dei legamenti ad un altro livello, con un sistema brevettato che utilizza articolazione sintetica ad assorbimento urti. Questi legamenti sono realizzati con fibre Vectran, che sono 5 volte più resistenti dell'acciaio, per fornire un controllo del movimento multidirezionale e progressivo. Inserti e articolazione ad assorbimento di carico possono essere inseriti per limitare l'estensione completa e ridurre il tempo in cui il ginocchio è esposto in posizioni e rischio. Struttura realizzata in materiale composito alleggerito si attaccano all'articolazione per un trasferimento di carico ottimale, lontano dalla giuntura del ginocchio e senza compromettere l'esperienza di guida. Culle integrate conformate al movimento dei muscoli alle diverse forme delle gambe, riducendo alcun tempo rischi di fratture. Imbottiture e telai antimicrobi migliorano il comfort, riducono gli odori e si legano alle strisce di fissaggio relative clip per fissare il tutore alla vostra gamba in modo che non si muova durante la guida. Protezioni completamente testate certificate CE proteggono da impatti, collisioni con il manubrio e migliorano il comfort quando inginocchiati. I paracolpi possono essere facilmente rimossi per convertire i tutori per altri utilizzi sportivi. Diversamente da altri tutori medici tradizionali, prodotti con articolazioni metalliche, i materiali anticorrosione pod li rendono ideale per sport d'acqua, di montagna, mountain bike, sport d'azione e di squadra. I tutori K4 sono certificati medicamente e indicati per qualsiasi età, genere, lavoro o divertimento. Verificate con la vostra compagnia di assicurazioni per eventuali coperture. Proteggetevi da giovani. Danni ai tessuti molli di ginocchia dei ragazzi giovani possono creare problemi di crescita e sviluppo per il resto delle loro vite. I tutori K4 sono disponibili nelle taglie giovani, giovani taglia alta, garantendo ai giovani piloti comfort, prestazioni e sostegno senza compromessi. Disponibili nei colori bianco metallizzato o grafite opaco, così potrete scegliere il vostro preferito. Pod. Impostare nuovi standard.